Ciao ragazze, questa è un'altra mia nail art che ho chiamato Rosa Fashion l'ho creata oggi nonostante la giornata oggiosa e ho utilizzato sia lo stamping per questo disegnino, questo fiore nero e sia la spugnetta, il metodo della spugnetta per fare il french e quindi evitare sbavature che la lunetta non venisse precisa il risultato è molto molto bello posso assicurare le unghie sembrano anche addirittura più lunghe di quelle che sono spero vi piaccia, vi saluto e al prossimo tutorial ciao ragazze